Questo è il primo movimento massimo in storia che non chiede niente per se stesso. Tu sai che rischiamo di fare trenta morti oggi, sì? Cazzo! Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più. Io non andammi da sto posto del merda. Per dormire stanotte. Alla diaz, c'è ancora posto. Non è lì dove si sono rifugiati i black bloc. Ci hanno lanciato un vinto. Guidavano quattro, ci sono solo quattro. E anche assassini assassini. Squadre, due, quattro, sei. Allinearsi alla mia destra. Io i miei non li tengo più. Fermatevi in basso! Ciao!